Musica Facciamola bene sta bandiera Musica E' stato chiesto espressamente di fermare le chiamate e di smettere di fare questo tipo di iniziativa Lui ha risposto no grazie, ha detto che da domani iniziano le chiamate e da domani E da domani si applica il regolamento aziendale Allora, questo è stato valutato da tutti qua come è stato detto Un atto ostile, il più ostile che almeno io mi ricordi Quindi noi abbiamo deciso di rimanere in protesta qua fermi Rimaniamo tutti qua e vediamo quello che succede Casa, perché oggi è l'anno zero Signoristi Grazie Grazie